Tadadam! Oggi facciamo Fortnite Chile! Uè! 2, 3! Papà prima! No! È bello! Oh! Oh! Ah! Secondo me papà è stato peggio, vero ragazzi? E voi ragazzi dovete scrivere chi ha vinto questa incredibile schia. Magari io sono vinto. Sì, dai, adesso. Sì, dai, adesso. Fatta. Sì, dai. 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 Andiamo a mangiare a mamma lega. Ciao. Metti like e iscriviti sul mio canale Amelie Civi. Ciao. Ciao. Ciao.